Sono rimasto un po' perplesso. La perplessità dell'assessore comunale alle politiche del territorio è suscitata dalla raccolta di firme della FIABA finché venga rivisto il progetto della ciclabile di Viale D'Annunzio che secondo l'associazione ambientalista da anni promotrice di una mobilità a due ruote danneggerebbe ciclisti e commercianti sottraendo parcheggi ai residenti. Fa specie che chi fino a qualche settimana fa mi proponeva di fare piste ciclabili in mezzo alla strada quindi creando evidenti pericoli per gli stessi pedoni. Chi fino a poche settimane fa mi proponeva di mettere le piste ciclabili ai lati dei marciapiedi impedendo quindi in quel caso sì una sosta a tutte le autovetture che attualmente occupano il Viale D'Annunzio adesso si preoccupi della perdita di quattro parcheggi perché quattro saranno i parcheggi persi al netto di quelli che non sono evidentemente neanche allo stato attuale autorizzati e si preoccupi di creare degli allarmismi nei confronti degli esercenti e dei commercianti. Nel nuovo progetto approvato dal Comune la FIEB contesta in particolare lo spostamento della pista ciclabile sul marciapiede e poi aventa problemi sia per i residenti che per gli esercenti con i quali però assicura l'assessore il dialogo è aperto. C'è la massima disponibilità a discutere soprattutto rispetto a quei soli tre esercenti che erano presenti anche in questi giorni c'è comunque il massimo rispetto perché in un'ottica di riqualificazione di quella via le persone potranno camminare sui marciapiedi, gli esercenti non avranno naturalmente le macchine davanti alle proprie vetrine, gli spazi esterni cosiddetti de ore verranno ridefiniti. Allo stato attuale mi risulta che una sola concessione è prolungata anche al 24, l'altra è in scadenza al 31-12-2023 per cui di fronte a questi falsi allarmismi già mi sono interfacciato con le categorie, le associazioni di categorie e la FIPE per un incontro che sia questo sì proficuo la prossima settimana.